Porca puzzarda ragazzi, oggi siamo solo io e voi e in questo video andremo a trovare i misteri che Gabri, o non lo so in realtà chi, ci ha messo, ci ha messo in questo mondo Allora io praticamente stavo camminando qua in giro in questo mondo vanilla che noi abbiamo E ho pensato di venire qua, perché non so se vi ricordate la scorsa volta che c'era Fede che faceva tutte le cose E praticamente ho trovato questo cartello, non entrare in costruzione Questo vuol dire, ho pensato, ma ok, non entrare in costruzione vorrà dire quindi che devo per forza entrare Perché, cioè, ovviamente se vedete una cosa che vi dice di no, ovviamente cosa fate voi? Fate il contrario, quindi ci andate, ci entrate Giustamente, normale, no? Normale E quindi, io sono andato qua e non ho trovato niente E porca puzzardina, qua c'è un piccolo problemino, ho pensato, perché se non c'è niente, allora vuol dire che non è in costruzione Però ho detto, ma scendendo da qui però vedo un'unica torcia qui, messa proprio qui Non è che se magari scavo dietro, guardate cosa ho trovato Un passaggio è dentro questo passaggio, c'era un lama Allora, io non so se sapete, ma praticamente Gabri e Fede hanno qualcosa con una sorta di diolama Almeno così dicono, salve lama, cosa vuole da me? Spero niente Hanno appunto un qualcosa con il diolama E io ora non vorrei dire, ma questo diolama ha proprio rotto le scatole Perché praticamente io ora non voglio destare i sospetti Quindi lascerò così e metterò la torcia Così almeno c'è anche il lama dentro e tutto al sicuro lì dentro Però ho preso questo blocco di netherrack Perché vi faccio vedere, ho pensato Questo blocco di netherrack sarà, diciamo, dal nether Quindi dobbiamo andare al nether Registro tutto insieme ai ragazzi Perché devo farvi vedere ragazzi Perché secondo me qua c'è un mistero molto strano Molto molto strano E sentiremo i ragionamenti insieme Ecco, vedete, ho trovato questo Questa torcia qua Messa qui, a caso Io ora non so Però direi di scavare sotto Ho un po' di paura però Perché non so cosa aspettarmi Quindi, quindi Chissà cosa troveremo qua sotto Ecco appunto, lo sapevo io Abbiamo trovato una cesta Un diamante, ok Questa cosa non me l'aspettavo Perché un diamante? Perché un diamante? Seriamente non me lo sto spiegando Il diamante, aspettate un attimo Il diamante vuol dire ricchezza Quindi se Se io non mi sbaglio Le persone più ricche di questo server Sono quelli là Cioè nel senso Hanno più diamanti Quindi sì, dobbiamo correre per forza Hanno i più diamanti Ah, praticamente Angelo e Chiara Sono i più ricchi del server Perché Angelo è stato giorno e notte a scavare E fra l'altro mi ha rubato tutti i diamanti È proprio un puzzone Un puzzardo Schifosello Però davvero Se questa teoria è esatta Allora dovrebbe esserci qualcosa Qua dentro la casa Però sono curioso adesso Perché sinceramente non lo so Potrebbe anche non voler dire niente Forse stiamo seguendo Una pista sbagliata Però Cerchiamo di capire meglio Madonna questa musica però Cerco Cioè comunque anche io la sento La musica tranquilla Mi mette ansia Porca miseria Ma aspettate un attimo Aspettate un attimo Io qua ho visto una sorta di Ma non è che per caso qua No ok no Aspettate No 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 Ok no Pensavo ci fosse una sorta di porta Perché se sapete voi i quadri Sapete i quadri no Eh Li sapete no Cosa vogliono dire Praticamente ci possono essere Nascosti dei segreti assurdi Eh però qua ragazzi Non Non ne caviamo piede E questa casa è talmente tanto enorme Che veramente Come facciamo Poi Se nel caso magari Non c'è nemmeno qua Aspettate un attimo Scusate Perché questo No 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 È la prima cosa che salta nell'occhio Questo quadro Messo così a terra Ma dai ma che lavoro hanno fatto Era chiaro Era chiaro al 100% Dai che stupidi però eh Che stupidi O che stupido Gabri Perché magari Loro non lo sapevano nemmeno Perché sappiamo che Angelo e Chiara Non c'entrano assolutamente niente Con questa storia C'entra Fede E Gabri Quei due là sono pazzi E comunque qua ci sono una serie di Colori a quanto vedo Ma Non so che cosa voglian dire Magari I colori Ma che cosa sono i colori Non lo so Cioè Ecco Allora cerchiamo di capire meglio Allora lì c'erano dei colori Arancione Azzurro Giallo Allora praticamente Sono dei colori un po' strani Magari hanno messo Se c'era l'azzurro Hanno messo qualcosa Dentro qua In questa cassa Può essere Però allora In realtà non lo so Forse perché c'è la concrete Ma cosa voglio Cosa vuole dire Porca miseria ragazzi Non ho idea Allora aiutatemi nei commenti Scrivete Secondo voi Quello Che secondo voi potrebbe essere Perché davvero abbiamo bisogno di capire Abbiamo bisogno di un sacco di risorse Per capire Il segreto Il mistero Dietro a tutto ciò Che fra l'altro Eppure è uscita una nuova serie Avete visto Quella nuova serie Con il lama Eh Quella di ieri O dell'altro Non saprei quando è uscita Però è uscita Insomma Porca puzzarda Ragazzi Veramente dobbiamo stare attentissimi Perché se no Chissà magari C'è proprio Non sappiamo nemmeno Minimamente Non siamo nemmeno minimamente Vicini A capire Quello Quello che vogliono dirci Tipo qua c'è l'azzurro C'è il giallo C'è l'arancione Ma qua non mi pare ci sia assolutamente niente Poi qua c'è Giubertone Scagazzone Ma scusami Ma che nome avevo dato A questo poverino Dai Cioè Vi immaginate uno Che appena nasce Vabbè insomma Che lo chiamano così Poverino Dai Che brutta cosa Serve veramente terribile Cioè Magari sarà qua Quei colori Non lo so Veramente Cos'è che possono dire Quei colori Sono colori comunque vivaci Della felicità Nonno è felice Dopotutto ha vissuto una bella vita Si spera Quindi magari sarà qui dentro Ma no Ma cosa sto dicendo ragazzi Non Secondo me Sarà da qualche Altra parte Pensa Dunis Pensa Qual è il posto Aspettate un attimo Pensateci Giusto un po' Qual è il posto più colorato Di questo server magico Secondo me Il posto più colorato È la casa di Fede È la casa di Fede Eh però Scusate un attimo Io non vorrei dire Ma Secondo me Non c'è niente O almeno potrebbe essere In realtà Potrebbe essere Che magari là Nella casa di Fede Perché sapete Appunto Fede c'entra Con tutto questo enigma Appunto Perché era lei La scorsa volta Vediamo Cerchiamo di capire meglio Vedete Tutto colorato Pieno di questi colori Anche Vedete Giallo Azzurro Proprio come era qua Però Non mi pare che ci sia Niente di sospetto Potrebbero essere Diciamo Dovunque queste cose Potrebbe essere Qualsiasi cosa Potremmo perdercelo Addirittura L'indizio Che ci fa proseguire Potrebbe essere Tutto quanto Inutile Quello che stiamo facendo Magari non è qua Non lo so È veramente Sto impazzendo ragazzi Ok Qua Non mi pare che ci sia qualcosa Ma cosa sono tutti questi posti Perché C'è questa cosa Certo che Fede Anche Fede Non è che scherzo Ci nasconde tante cose Ok Questo dovrebbe essere Una sorta di alveare A quanto ho capito Potrebbe essere Invece se Io mettessi Questa musica Ok Perfetto Molto più carina No Anzi Fa schifo questa musica Vediamo questa Molto più carina Magari sarà qua Per caso No Eh beh Scusate ma Aspettate un attimo Ma qua c'è un'altra cosa Ma quante cose ci sono Per favore No Letteralmente Non stiamo capendo Aspettate un attimo I colori I colori Vediamo se C'è qualcosa sopra Ma non lo so Secondo me Non c'è niente Potrebbe Allora potrebbe essere Che ci sia dappertutto Però Non saprei Cos'è questo Un attimo Fermi tutti Fermi tutti Perché questa cosa È piazzata proprio qua Perché questa cosa È piazzata proprio qua Ora Non ha il minimo senso Potrebbe essere Potrebbe essere Un ragionamento Falso Ed inutile Cioè nel senso Io Eh no Cos'è Meglio mettere No ragazzi Sto impazzendo Aiutatemi Vi prego Ok Mettiamo questa musica Che è Paurosa Io Non so se è veramente Questo L'indizio Che stavo cercando Dai Mi sono buttato le patate Però sono stupido Vabbè Cerchiamo di scavarci sotto Magari C'è davvero qualcosa Qua sotto Potrebbe essere Oh porca misera Ragazzi Avevamo trovato qualcosa Aspettate un attimo Cos'è che c'è scritto Il nostro dio lama Ci salverà No È una bugia Zitto Non farti sentire da lui Ma in che senso Oh No 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 Scusate 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 In che caspita di senso Ma che cosa mi state dicendo No 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 Qua non è normale Aspettate un attimo Esco da questa parte Si può uscire Fidatevi Ok perfetto Conosco questo server Come le mie tasche Praticamente Non posso sbagliarmi Avete capito Aspetta Io faccio uno screenshot Di questa cosa Perché non è possibile ragazzi Cioè vi rendete conto Il nostro dio lama Ci salverà No È una bugia Zitto Non farti sentire da lui Cioè è come Praticamente Se Loro stessero Conversando Come se fosse una conversazione Ma chi è che sta conversando Gabriele Fede forse Ho paura ragazzi Mi sto letteralmente inquietando Questa cosa non è per niente Confortevole Pensare che Comunque era tutto quanto Sotto il nostro naso Fino a questo momento Pensare che questi indizi Magari C'erano da chissà quanto tempo E noi non ce ne eravamo Nemmeno accorti Almeno io Angelo E Chiara Non ce ne siamo accorti Quei due là Non so che cosa hanno in progetto Fede e Gabri Non so perché E per come Non so niente Letteralmente niente Di quello che abbiano In progetto E non so che cosa c'entra Il dio lama Con tutto questo Che cosa c'entra il dio lama Non ne ho la più pallida idea Ragazzi dovete Aiutarci voi Nei commenti Perché davvero Vogliamo capire Quello che vogliono dirci Vogliamo cercare Di capire i segreti Secondo me Ora non possiamo più Andare da nessuna parte Perché non c'è un vero e proprio indizio Cioè dov'è che possiamo andare E' come se fosse appunto Una conversazione Magari Potremmo inventarci delle cose Non lo so Dateci gli indizi voi Nei commenti E noi nel prossimo episodio Ci andremo In questo In questo momento Io direi di Di finire qua l'episodio Perché davvero Non ho altre idee E vedete Quanto è strana la situazione Potete vederlo Sentirlo Sentirlo anche a pelle Insomma Ascoltare Le musiche inquietanti Che delineano Il mistero Di tutto ciò E detto questo Niente Noi ragazzi Ci vediamo Al prossimo video Ciao